Complicasco rosso per Carrica, prima corsia per lui, blu per Covanti, seconda corsia, terza Carbanese, quarta mirante. Passa in prima posizione, attenzione vicinissimi due, Carrica, Carbanese e Covanti. Passa in prima posizione, attenzione passa a Carbanese, Carrica in secondo, Covanti terzo, fuggire a termine. Passa in prima posizione, attenzione, a Carrica e Covanti. Passa in prima posizione, attenzione va a termine, Carrica e Covanti. Passa in prima posizione, attenzione, a Carrici terzo, fuggire a termine, Carrica e Covanti. Siamo già con la bandiera, scacchi! Carcanese, Barretta e Polassi dalla prima alla stessa. Eccora tre punti per Carcanese, i miei punti di questi punti. L'esito di questa finale è il nuovo campione italiano 2000. E allora il rosso per Mattia che perfetta. Che vi garantiti, adesso è via! Allora attenzione Carcanese, Carricca, Polassi, Vicentino. Polassi, Carricca dalla prima alla quarta posizione. Al comando Carpanese, Vicentino il secondo, Polassi il terzo al passaggio del primo giro. Un'esigenza di il riso. Non è da un'esigenza che è la stagione del capitolo del primo giro. Alla stagione di Carricca nei confronti di Colatti. Siamo alla passaggio del secondo giro. A pinferi Colatti all'esterno. Carpanese all'accomando Unicirone Termine Carpanese Vicentini E allora siamo in ettiritura d'arrivo Bandiera Scacchi Campione italiano Carpanese E Fsellini Seconda Unicirone E' il prodotto Friare per Carvica Corso E' mai Ieri Anche Sottotitoli Classica E' il gettino Seconde Sottotitoli Fuori Carpanese Guido Fittorio italiano Verunque Sottotitoli Carpanese A lui Poi consegna la coppia sempre il signor Roberto Nistico. Non mi sono preparato come tutte le altre gare, speravo di vincere, ma prima di vincere la gara volevo vincere il campionato, visto che riuscivo a vincere tutte le batterie, quindi ho vinto anche la finale. Ringrazio tutti i sponsor e i meccanici che mi hanno aiutato.